Dopo la consulenza gratuita delle scorse settimane e dopo che il proprietario ha compilato i nostri questionari, oggi siamo pronti a personalizzare il suo ambiente in base alla sua personalità. E ora che l'appartamento è completamente ingartato siamo pronti a personalizzarlo. Se anche tu vuoi personalizzare il tuo ambiente o la tua camera, qui sotto troverai tutti i link di riferimento per pronotare una consulenza gratuita, per seguirci su Facebook o andare a visitare il nostro canale YouTube e il nostro blog. Ciao!